I due milioni via sempre l'italiana Elena, tieni la ricezione staccata da retta, devi palleggiare questo per chiamare qualcuno di diverso perché la battuta è facile non puoi affidarti che non puoi sbagliare il scherzo 15-11 16-11 16-12 Elena, vedete su quale sia la piante se lei legge da qua vedi, girata lì, poi è la piante lo dovete mettere con tre bolle allora perché è da l'altra parte però perché è la piante se vai lì, c'è libera la lingua apposta 16-13 la gambe parallele che è bro? Lidia! che cazzo sei, dai vai a fare il giro 15-14 Eleonora si soltò il pallone non è mancina mettine sul braccio destro Elena, situazione perfetta alzata perfetta devi avere pressione addosso stai giocando 16-15 questo mi piace Dario, non stare al centro del campo tieni la posizione che mi te l'ha durato pure bene tu sei uno stronzo che è dietro di lei vai lì 16 l'idea già danno c'è la palla al contrario non può attaccarla quella è impossibile 16-17 non chiamare piccolina diciamo qualcosa che serve perché io c'è stato un chiarito non mi chiamare un po' non mi ha fatto a te 2-3 la chiamata 16-18 questo è bellissimo questa è 19 però voglio che la colpisci così, non così perché la vuoi prendere dietro, ma hai rotto le palle, quindi attacca da qua, non da sotto per fare questo, 17-19, in area 6 in piedi, sempre un bambolotto di pezza, 17-20, si è la match point, senza pressione, mantenuta in palleggio, 18-20, la palla è scomparta sotto le spalle, Adesso i bracci come erano? Siamo uguali, infatti non hai tirato, non hai tirato sempre sul centro del campo Se tu l'avessi colpita dritto, dovresti aver guardato in linea Ho capito, ma se vai in due metri su un campo ad otto, si cala tanto a casa niente E' come se picchi una macchina in due metri, sei stata dentro l'abitacolo 18-20 19-20 E' un po' messo due ore di fila sotto un treno perché sa che è il match boy Basta battere facile su di lei E' bravissima Secondo set, di nuovo 15-10 E' l'entra per il venticolare che tira dritto C'è un marco di allure che è altissimo E' fare la L di avvicinamento da destra e prende l'interno E' un saluto Tu non riesci ad allargarti, lei non riesce a non arracare Giocate al contrario cazzo di rincoglionite tu non ti allarghi mai da sinistra mai allargata se ti sento per dire se allarghi e basta fate giocata al contrario no ma io no ma fatelo ora fatelo al giocato 7 lo vincite a definire però è il tuo giocatore di sicuro normalmente gioca a sinistra battuta gentiltà gentiltà batte 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 si chiama tu vai 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 hai difeso per me ti lanciate e vieni in terra a guardare 15-15 qui però 12-15 non c'è corretto riga 12-16 questa è a casa mia senza il semicerchio e riga perché è tagliato sulla riga esterna quindi basta per il testamento 12-15 è lamentamente dentro hanno provato a parare 13-16 l'italiano ottario vi muovete troppo fuori sincronia oggi fa non le faccio a parare non le faccio non le faccio non le faccio sì 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 14-16 questa qua è la testa in banalite non le faccio a parare è chiamato dietro per il terzo spazio di scena la retta in banalite non puoi la dire la retta in banalite così 15-16 battuta è una palla aperta 16 battuta è una palla vicino a te è sotto uno avuta 16 battuta 17-17 Grazie. 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 Vai, 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 vai. Senti, studenti, chiama una cosa unica e chiara. Sì, piccolina qua, che cazzo vuol dire? No. Gravoli. Che balla. No. No. Stai via a fare la retta. Però che si sa. Stai con la testa, dai. Ok. Avete la retta qua? No. Stai con la palla come si è andata sui 19 volte. Ma che bravo? Allora non c'è la retta. Non devi cambiare la retta. Cambio. No. Eh, oh, eh... C'è la palla qua. Ti alzo la palla per... Bene. Devi stare lì. Perché finora... Non ho fatto niente da fronte? Non ho fatto niente da fronte. Non c'è, ci sono signorati. Cioè, guarda una rete. Ti lo posso dire, ti restare... Però non posso. Non ho fatto niente da fronte. Non ho fatto niente da fronte. Mi preferirei? Ma non posso. Ma adesso si vede. Non hai fatto niente da fronte.